Per gestire con successo una zona sciistica serve qualcosa di più che mettere in funzione semplicemente gli impianti. Affinché tutto vada per il verso giusto, è importante che il sistema lavori sempre in modo sicuro e affidabile e disponibile per ogni evenienza. Allo stesso tempo è anche necessario tenere sotto controllo tutti i costi. Qui la manutenzione gioca un ruolo fondamentale. Impianti di risalita e innevamento, i mezzi, tutta l'infrastruttura come recinzioni di sicurezza ed estintori, ma anche l'impianto tecnico dello stabile come portoni a serranta volgibile, impianti di ventilazione, porte e antincendio. Tutto deve essere sottoposto regolarmente a controlli e manutenzioni. Da queste operazioni scaturiscono dati importanti che devono essere documentati ed elaborati. Con tutte queste operazioni tenere sotto controllo le attività e i costi non è sempre facile. Solo chi conosce tutto può assicurarsi che tutti gli impianti funzionino in modo regolare ed affidabile, garantendo un alto livello di sicurezza. Allo stesso tempo questi dati sono la base per processi efficienti e per decisioni economicamente vantaggiose. Una cosa complessa per tutto il team. Non sarebbe perfetto se esistesse una piattaforma per tutto ciò, dove tutti i dati e i costi sono disponibili in modo strutturato e possono essere facilmente analizzati. Che mostri potenziale di risparmio e aiuti a prendere le decisioni giuste. Una piattaforma a cui possa accedere tutto il team, dove tutte le attività e gli appuntamenti possano essere pianificati ed assegnati ai dipendenti responsabili. Dove tutti possano elaborare gli incarichi, integrare le informazioni e accedere a documenti specifici per l'impianto, dalla pista, dall'officina, dall'ufficio. Che generi una documentazione senza manchevolezze, una base conoscitiva trasparente per tutti i processi chiari e una comunicazione senza equivoci nel team. Questa soluzione esiste già. SnowSat Maintain. Con SnowSat Maintain potete garantire un funzionamento sicuro e affidabile di tutti gli impianti, identificare cosa incrementa i costi e come abbassarli, ottimizzare e standardizzare i processi di manutenzione, migliorare la comunicazione nel team e aumentare in modo sostenibile la sua efficienza. Puntate su SnowSat e avrete nuovamente più tempo per i vostri incarichi principali e una gestione della vostra zona sciistica di successo. SnowSat Maintain. Sviluppato insieme ai clienti.